Di tutto per averlo. Volevo ad ogni costo un figlio e ho fatto di tutto per averlo, ma niente. Alla fine ho smesso di volerlo ed è venuto. Perché? Commento. Perché, se il tuo programma di vita lo permette, il desiderio si materializza quando, permanendo latente nel tuo intimo, non è più il protagonista della tua vita.